fermo 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 stia calmo stia calmo non si agiti e ci do subito tutti gli euro che c'è nel portafoglio ma che cosa dici minchione questo non è una rapida si è ringraziata santa rosalia un coppio mi stava venendo a me lo sa masturba come masturba te non ho capito che devo fare ho detto che ti devi masturbare e ti metti d'ammazzo ma hai capito no 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 subito stia fermo ma come vuole lei masturba 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 fatto masturba tenazzo a volte ma non ce la faccio guarda l'ho appena fatta non ce la faccio un uomo grande e grosso come te una volta lo facesse masturba altrimenti ti faccio saltare lo cervello subito 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 come fare un attimo ammazzare tutto io ora con un poco di concentrazione lo rifeci cammela si santuzzo vieni qua se è questo signore che si è offerto gentimenti di darti un passaggio fino a ciavane grazie pizzica che femmina mia moglie lo vedi che gente di cuore si trova sempre amo nena picciola